le macchinine colorate e l'arco magico sta arrivando la nostra macchinina grigia ma cosa ha sul tettuccio? macchinina cosa stai trasportando sul tettuccio? e dove stai andando oggi? attenzione! la nostra macchinina sta per attraversare l'arco magico bellissimo! è diventata una macchinina rossa quindi era un pezzo del domino che stava trasportando ciao signor camion oggi siamo tutti in rosso attraversa l'arco magico e unisciti a noi il signor camion è entrato nell'arco magico ed è diventato rosso cosa ci hai portato camion? altri pezzi del domino con i numeri tre, quattro e cinque ciao cinque ciao quattro ciao tre ciao anche a te uno ma manca un numero il domino serve un pezzo rosso numero due del domino puoi aiutarci a trovarlo? sì quello è il pezzo giusto grande! grazie del tuo aiuto ora la macchinina e il camion possono giocare addomino insieme guardate i pezzi come cascano uno ad uno è divertente ora tocca a te signor camion rosso volete scegliere il prossimo colore di cui dipingere le macchinine? rosso? verde? arancione? o giallo? fatecelo sapere nel commento